A volte ci chiediamo perché Dio permette le prove e le difficoltà pesanti. Ma forse una domanda migliore è, sto io camminando nelle vie del Signore? Ad ognuno dico, pensa alla tua vita e ai tuoi rapporti. In linea generale, come si potrebbe riscrivere la tua vita giorno per giorno? Certamente ci sono eccezioni, ma giorno per giorno come va la tua vita? Hai di solito vera pace nel cuore? Hai la luce di Cristo nei tuoi occhi? Hai autocontrollo nei vari campi della vita? Hai un cammino di santità? Solitamente hai gioia? In modo che guardando la tua faccia uno vede la gioia di Cristo? Oppure no, non vedono gioia. Vedono frustrazioni o vedono timori o vedono pesi. Cosa vedono sulla tua faccia? Riesci a avere vera pace? Questo è il tuo andazzo? Che poi tu porti nei rapporti che hai in casa e con altri? Cioè tu sei una fonte, un profumo della pace di Dio? Che gli altri vedono? Tu parli con gli altri come pratica, con bontà, con amore, con gentilezza? Oppure spesso sei brusco o negativo o infastidito o irritato? Vai a letto, di solito, notte dopo notte con un cuore pieno di ringraziamento? Vai a letto così? Signore, grazie che sei stato con me oggi. Questo sarebbe normale per te? Oppure vai a letto con pesi, con un cuore aggravato, pieno di pensieri? Qual è il tuo stato di animo, solitamente? Tu sei pieno di bontà? Gli altri sanno, lui, lei, mi tratta giorno dopo giorno con bontà e il suo modo di agire. Questo è quello che possono dire di te? Sei notato, sei visto come paziente? Oppure sei spesso agitato? Teso? Pronto a rispondere indietro? Poi, parlando in modo più specifico dei nostri rapporti, soprattutto quelli più stretti, quelli di casa, come si potrebbe riscrivere i tuoi rapporti di solito? Solitamente sei una grande fonte di gioia per le persone intorno a te? O sei una fonte di tensione? Nei tuoi rapporti c'è di solito un grande rispetto reciproco? Dove ognuno si impegna ad onorare l'altro? Ad essere primoroso per l'altro? Avere al cuore l'altro? Oppure c'è spesso il negativismo? Come tendenza? Vedi le persone nella tua vita come un piacere? O come un certo fastidio? Un peso da sopportare? Nei tuoi rapporti, soprattutto quelli di casa? Avere scontri è una cosa rara? Capita ogni rara volta? O è una cosa che succede spesso? Anche più di una volta al mese? Cioè è normale avere scontri e tensioni? Succede anche una volta al mese? Quello sarebbe spesso? Grazie a Dio no, sì l'anno scorso c'era quella volta e quella volta, ma non è normale. O è normale che ci sono scontri e tensioni? Se ci sono scontri o tensioni spesso, è un'indicazione di grandi problemi nel cuore. È un sintomo di grandi problemi. Se tu stai camminando bene con Dio, se stai camminando umilmente davanti a Dio, sarà molto raro avere tensioni nei rapporti. Molto raro. Avere scontri sarà proprio raro. Ci vogliono due persone per avere tensioni. Quindi, a prescindere di come sta camminando l'altra persona, se tu stai camminando con Cristo, se tu sei pieno di Cristo, ripieno di Spirito, ripieno del frutto e dello Spirito, non ci saranno tensioni, anche se l'altra persona cammina nella carne. Non ci saranno scontri, perché ci vogliono due. Tu non puoi determinare come sta l'altra persona, ma tu puoi determinare il tuo rapporto con l'altra persona. Se io sono pieno di Cristo, io mi comporterò con bontà, bontà e pazienza e amore. Se tu sei un vero figlio di Dio, è fondamentale questo. E se pensando a te stesso, le prime domande che ho fatto, hai riconosciuto che spesso hai un cuore agitato o turbato, anzi che pace. Oppure se riconosci che nei tuoi rapporti c'è spesso tensioni, vuol dire che tu stai camminando nel peccato. Non è normale avere un cuore agitato per uno che cammina con Cristo. Non è assolutamente normale avere tensioni nei rapporti se tu stai camminando con Cristo. Il problema è che spesso abbiamo una pratica talmente carnale che neanche riconosciamo. Spesso siamo talmente pieni della carne, di peccato, che è normale. E non notiamo. Ma è fondamentale notare. E' fondamentale capire che in Cristo Gesù siamo stati liberati dal peccato. Non dobbiamo camminare nel peccato. Se io ho il cuore turbato come andazzo, sto camminando nel peccato. Se nei miei rapporti c'è spesso scontri, è una cosa che succede. Spesso io sto camminando nel peccato. Fa parte di me. E magari confesso quel scattare, ma sto riconoscendo e confessando quello che sto portando nel cuore. Se tu hai un pezzo di terreno e tu taglia, rasa a terra e poi spuntano delle erbacce e dopo qualche settimana tiri fuori i decifiliatori e rasi tutto a terra e spuntano ancora. E li tagli e spuntano ancora. E questo va avanti per mesi e mesi. Cosa potresti presumere con certezza? Cosa c'è sotto terra? Ci sono le radici, marce. E per quello che continuano a spuntare, a spuntare. E tu li tagli. Questo sarebbe paragonabile. Confessi il peccato. E poi cresci in uomo nello stesso posto. E lo confessi e cresci di nuovo nello stesso posto. Hai delle radici. Fratelli, sorelli, non deve essere così. Non deve essere così. Secondo Corinzi, 5,17, conosciamo, prego a memoria, e dichiara Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Quando Dio ci salva in Gesù Cristo, diventiamo, per opere di Dio, una nuova creatura. Letteralmente nuovo. Un cuore nuovo. La salvezza non vuol dire diventare parte di una chiesa o di una religione. Non è credere in una nuova dottrina o nella dottrina giusta. Non è comportarci meglio. La salvezza è un'opera di Dio, in cui Dio ci fa diventare nuove creatura in Gesù Cristo. La salvezza non è un miglioramento, è una trasformazione. Allora, nella religione si cerca, nelle proprie forze, a seguire i comandamenti, ma non funziona. Le nostre forze non bastano mai. E quindi, se quando tu pecchi, ti viene in mente, devo stare più attento, devo impegnarmi di più, stai cercando di vivere la vita cristiana nelle tue forze. E questo è l'orgoglio. Sperando di farcela, così puoi vantarti. Nella vera salvezza, Dio crea un cuore nuovo, ci libera dalla schiavitù del peccato. E non siamo più legati al peccato, che dobbiamo camminare nel peccato, come prima. Possiamo, abbiamo in Cristo la forza di cambiare tutto. Abbiamo in Cristo la forza, guardando a Lui, di cambiare tutto. Non siamo schiavi del peccato. Non dobbiamo mai dire, eh, ma io sono così. Se tu sei in Cristo, sei una nuova creatura. Allora, voglio guardare insieme ai Romani 6, che ci parli di questo. Ci parla del fatto che in Cristo Gesù, veramente, moriamo con Cristo e nasciamo con Cristo. Cioè, lo Spirito Santo ci battezza nella morte di Cristo Gesù. E così, letteralmente, moriamo con Cristo e nasciamo come nuove creature in Cristo. E il peccato perde il suo potere su di noi. Trovate i Romani 6, e voglio leggere dall'inizio. Che diremo, dunque, rimaneremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto! Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battizzati in Cristo Gesù, siamo stati battizzati nella sua morte? Noi, dunque, siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Poiché, se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocefisso con Lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui, perché, in quanto Egli è morto, è morto al peccato, una volta per sempre, ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore. Consideriamo le verità qui, sono importantissimi. Paolo inizia questo brano, perché alla fine dei 5 aveva detto, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Così inizia dicendo, ma loro dovremmo restare nel peccato, visto che c'è tutta questa grazia, e dice, assolutamente no! Non dobbiamo restare nel peccato. E poi ci spiega, perché assolutamente non dovrebbe essere la nostra vita. Leggo di nuovo 2 a 4, rispondendo alla domanda, se dovremmo restare nel peccato. Niente affatto! Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella Sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo, è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. E' fondamentale capire che quando Dio ci salva, lo Spirito Santo ci battezza spiritualmente nella morte di Gesù Cristo. La Sua morte è conto come la nostra. E così come Cristo è risuscitato dai morti, anche noi risuscitiamo per camminare, ovvero per vivere in novità di vita. Abbiamo una nuova vita in Gesù Cristo e possiamo e dobbiamo camminare in novità di vita non come prima. I versetti 5 e 6 ci aiutano a capire che ora in Cristo non dobbiamo più servire al peccato. Leggiamo 5 e 6 di nuovo. Poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua saremo anche partecipi della sua risurrezione sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocefisso con lui perché il corpo del peccato possa essere annullato affinché noi non serviamo più al peccato. il nostro vecchio uomo è stato crocefisso con Cristo questo fa sì che il corpo del peccato che prima ci rendeva schiavi del peccato è stato annullato non siamo grazie a Dio più schiavi del peccato non dobbiamo servire il peccato come prima siamo stati liberati da quella schiavitù non dobbiamo scegliere di ubbidire al vecchio padrone da cui siamo stati liberati il versetto 7 ci ricorda una meravigliosa verità e ci serve ricordare questo tutti i giorni leggo infatti colui che è morto è libero dal peccato abbiamo letto prima che noi siamo morti con Cristo siamo liberi dal peccato non siamo schiavi non dobbiamo andare avanti siamo nuove creature fratelli e sorelle consideriamo con occhi aperti e con cuori aperti quello che questo versetto dichiara se siamo stati salvati siamo stati crocifissi con Cristo morti con Cristo liberi dal peccato liberi dal peccato allora possiamo ancora scegliere di peccare e purtroppo con grande stoltezza spesso scegliamo di peccare ma non siamo più schiavi non dobbiamo scegliere possiamo scegliere costantemente a non peccare perché non siamo schiavi del peccato i versetti 8 a 10 ci danno l'esempio di Cristo per spiegarci come dobbiamo vivere noi leggiamo attentamente 8 a 10 ora se siamo morti con Cristo noi crediamo pure che vivremo con Lui sapendo che Cristo essendo risuscitato dai morti non muore più la morte non ha più alcun potere su di Lui perché in quanto Egli è morto è morto al peccato una volta per sempre ma in quanto Egli vive vive a Dio qui abbiamo l'esempio di Gesù Cristo ricordando che noi siamo morti e risuscitati con Cristo e Cristo essendo morti e risuscitato la morte non ha più poteri su di Lui è morto al peccato e noi siamo morti al peccato grazie a Dio grazie a Dio siamo morti al peccato il peccato non ha poteri su di noi non dobbiamo mai dire ma io sono così non siamo schiavi è una bugia da non credere ma non riesco una bugia è una bugia non sei così scegli di fare quello tu scegli di peccare non sei schiavo è una scelta spagliata e stolta che porta tanto male nella tua vita e nella vita delle persone intorno a te quindi versetto undici cosa ci dichiara così anche voi consideratevi morti al peccato ma viventi a Dio in Cristo Gesù nostro Signore questo è un comandamento la parola consideratevi è una parola dove magari un padre di un figlio adulto che si sposa e non si comporta bene il padre dice figlio mio considerati un marito cioè tu sei un marito comportati come un vero marito tu sei un marito o se fossi papà considerati un padre e comportati come tale e qui dice perché tu sei consideratevi morti al peccato perché perché siamo morti al peccato ma consideriamoci riconosciamo che siamo viventi a Dio in Cristo Gesù il nostro Signore perciò non dobbiamo più ubbidire al peccato dobbiamo dire no quel uomo che ora è marito se arriva una vecchia ragazza sua devi dire no a lei non ti accettano la mia vita io appartengo ad un'altra e quando il peccato arriva non dobbiamo dare spazio o tempo dobbiamo dire no io appartengo ad un altro che mi ha comprato a caro prezzo era morto per me e risuscitato per me andando avanti leggendo i versetti 12 a 14 c'è un chiaro comandamento di come dobbiamo vivere ascoltiamo non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia infatti il peccato non avrà più poteri su di voi poiché non siete sotto la legge ma sotto la grazia questo versetto inizia non regni quindi questo quindi ci ricorda che questi comandamenti non sono fondati su che sono fondati su quello che Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo i comandamenti di Dio non sono gravosi non sono pesi che dobbiamo cercare noi di portare sono tutti basati sull'opera che Dio ha già compiuto per noi abbiamo grazie a Dio abbiamo da Dio in Cristo il potere di non peccare perciò questo brano ci comanda a non obbedire più alle concupiscenze del peccato ci comanda a non prestare le nostre membra al peccato le nostre membra i nostri occhi quello che guardiamo la nostra lingua quello che diciamo le nostre mani quello che facciamo i nostri piedi dove andiamo le nostre menti quello che scegliamo a pensare non dobbiamo prestare le nostre membra al peccato piuttosto dobbiamo presentare le nostre membra a Dio per portare gloria a Lui come strumenti di giustizia quindi vogliamo usare i nostri occhi le nostre lingue le nostre mani i nostri piedi le nostre menti per la gloria di Dio e per edificare la sua chiesa e grazie a Dio in Cristo Gesù possiamo vivere così perché non siamo più schiavi del peccato in Cristo Gesù abbiamo la capacità e la forza di camminare così in ogni campo della vita e questo ci porta alla verità che troviamo nei versetti 15 e 18 leggiamo e consideriamo il significato di questi versetti che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia così non sia non sapete voi che a chiunque vi offriate come servi per ubbidirgli siete servi di colui al quale ubbidite o del peccato per la morte o dell'ubbidenza per la giustizia ora sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato ma avete ubbidito di cuore a quel modello di doctrina che vi è stato trasmesso essendo stati liberati dal peccato siete stati fatti servi della giustizia alla luce di quello che Dio ha fatto nelle nostre vite battizzandoci nella morte e nella riservazione di Gesù Cristo alla luce della meravigliosa verità che siamo stati liberati dal potere del peccato e che non siamo più schiavi del peccato come eravamo certamente è giusto che ci facciamo servi di Dio e servi della giustizia certamente a pieno senso è come se uno fosse è un povero paragone ma se uno fosse cieco schiavo della cecità nato cieco qui in un certo senso schiavo della cecità e Dio miracolosamente o provvedendo un grande medico in qualunque modo anche naturale sovranaturale gli dà la vita quanto senso avrebbe per quella persona che dopo anni di essere schiavo della cecità che ora vede però per Dio che stottezza rimettere una benda e andare in giro con una benda Dio ha comprato la vista non deve rimettere una benda e quando noi scegliamo di peccare siamo così stolti in questi versetti Dio ci comanda a non obbedire più al peccato dobbiamo rinunciare al nostro peccato per vivere alla gloria di Dio in ogni campo della vita Dio ci ha liberati dai vecchi peccati di cui eravamo schiavi non camminiamo più lì ma quando cadiamo cadiamo ma cosa facciamo ma è inevitabile io sono così o guardiamo di nuovo a Cristo confessiamo e accettiamo il perdono per camminare in novità di vita e se cado anche dopo un'ora io confesso dopo un'ora e accetto il perdono il pieno perdono io continuo a confessare ogni volta che cado non sto lì dicendo eh ma no ormai non sto lì rotolando nel fango del mio peccato nella miseria ma guardo a Cristo e confesso i miei peccati per camminare in novità di vita voglio guardare in altro brano che dice cose simili in un altro modo resterebbe Efessini 4 dal versetto 17 a 24 se ricordate in Efessini parla del fatto che siamo stati vivificati in Cristo eravamo morti siamo stati vivificati quello capitolo 2 perciò in quello è un parallele con Romani 6 e adesso andando avanti quello che abbiamo visto dopo in Romani 6 troviamo in Efessini 4 da 17 a 24 seguite mentre leggo questo brano questo brano questo dunque dico e attesto nel Signore che non camminate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente o tenebrati nell'intelletto estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore essi essendo diventati insensibili si sono abbandonati alla dissolutezza commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia voi però non è così che avete conosciuto Cristo seppure li avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in lui secondo la verità che è in Gesù per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità se siamo salvati allora siamo creati secondo Dio nella giustizia e santità della verità siamo una nuova creatura non dobbiamo più camminare come prima non siamo più schiavi del peccato non dobbiamo più vivere con gli altri gentili che sono ancora nelle tenebre come eravamo ma non siamo più dobbiamo spogliarci dell'uomo vecchio è il comportamento che avevamo prima della salvezza dobbiamo togliere tutto il vecchio modo di vivere dalla nostra vita e grazie a Dio possiamo in Cristo Gesù possiamo togliere vecchio siamo stati liberati dal potere e dal peccato in modo che possiamo camminare in novità di vita togliere il vecchio comportamento pecaminoso che faceva parte della nostra vita e con questo base Paolo ci dà un perciò quello che dobbiamo fare ora che siamo liberati dal potere e dal peccato seguitemente leggo i versetti 25 a 28 perciò diposta la menzogna ciascuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membri gli uni degli altri adiratevi e non peccate il sole non tramonte sul vostro crucio e non date luogo al diavolo chi rubava non rubi più ma piuttosto si affaticchi facendo qualche opera ma piuttosto si affaticchi facendo qualche buona opera con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno allora nei versetti precedenti troviamo il motivo per cui dobbiamo spogliarci dal comportamento del vecchio uomo qui è anche comandamente di farlo in senso generico qui troviamo alcuni esempi specifici che spiegano cosa togliere e cosa rimettere al suo posto questo è un elenco semplice simbolico non copre tutto ma ci dà un esempio per esempio dobbiamo togliere completamente la menzogna piuttosto dobbiamo dire sempre la verità al nostro prossimo allora la menzogna comprende mentire direttamente comprende esagerare tu non lo fai mai tu sempre sei così quello è mentire riguarda anche nascondere per fare credere qualcosa che non è vero ci sono tanti modi di mentire è un vero credente devi togliere completamente la menzogna della sua vita parlare e comunicare con verità poi dobbiamo togliere ogni forma di ira che non è pura e c'è ben poca ira che è pura era pura l'ira di Gesù quando è andato nel tempio per schiacciare i mercanti quello era puro ma quando è stato traggiato non aveva ira e quando noi abbiamo ira o cruccio a causa di quello che gli altri fanno a noi non è un'ira pura e non dobbiamo mai anche con un'ira pura non dobbiamo mai arrivare ad andare a letto con quell'ira il sole non tramonta sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo perché se noi portiamo avanti anche un giorno un cruccio un'ira siamo nel peccato e ci farà fare entrare altre cose dobbiamo risolvere tutto ma come posso risolvere se c'è un'ira giusta perché se è ingiusta non devo neanche averla se uno mi tratta in modo ingiusto ed io trovo in me dell'ira contro quella persona come devo fare? io sono nel peccato sì si ha peccato contro me ma la mia ira come reazione è peccato e quindi a prescindere quello che fa quella persona io devo confessare il mio peccato di ira non devo andare a letto così dobbiamo non rubare più allora questo esempio è pratico dice piuttosto lavora con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare chi è nel bisogno ma visto che questo elenco è solo simbolico di tanti peccati vorrei parlare in altro modo di rubare che non credo che qui tanti rubano a livello materiale certamente se uno lavora e spreca tempo mentre l'attore lo sta pagando allora quello sta rubando dal suo dottore sta rubando busta paga se tu pagassi un tecnico di venire di ripararti la lavatrice e se lui ti chiede allora ti chiede una cifra quello che sia tu devi pagare 70 euro allora e tu vedi lui passando tanto tempo sul smartphone e chiacchierando con gli amici e guardando social media e mi scusi ma le sto pagando ah scusa scusa e tu esci e torni e lui sta lì di nuovo e prende tre ore e tu dici io sono sicuro che lui ha speccato due ore per te ti ha rubato o per te va bene perché in quel caso tu sei il suo dottore e tu stai pagando lui a lavorare per te e lui spreca tempo stai rubando i tuoi soldi anzi che sei tanto per mano dopo richiede 210 è giusto quel 140 in più lo mandi giù facilmente o ti agita e tu rubi dal tuo dottore ma ci sono altri modi da rubare un marito che non passa tempo con la moglie sta rubando a lei la cura che Dio intende genitori che non investono bene trasmettendo i valori e le verità di Dio stanno rubando dai figli la preparazione per la vita che Dio ha dato ai genitori di trasmettere se non usiamo i nostri doni spirituali ma non ho tempo sono preso sto rubando agli altri credenti la cura che Dio ha dato a loro tramite me Dio ha provveduto uno prega signori aiutami ho bisogno di capire ho bisogno di incoraggiamento e Dio dice risponde alla tua preghiera metta sul cuore di questo o di quello quello che ti serve ho dato quel dono proprio quello che ti serve a quella persona e quella persona non usa il suo dono stiamo rubando non rubiamo più ma affaticchiamoci per avere da che condividere a che dare con chi è nel bisogno e quindi questo è un esempio di rispogliarci dal vecchio uomo per rivestirci con l'uomo nuovo il versetto 29 un versetto uno che ho imparato a memoria tanti anni fa più di 50 anni fa se non hai tanti versetti a memoria è da memorizzare questo nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca ma se ne avete una buona per la edificazione secondo il bisogno ditela affinché conferisca grazia a quelli che l'ascoltano questo brano è mega importante per quanto riguarda i nostri rapporti notate che inizia con un grande comandamento che nessuna parola malvagia esca dalle vostre bocche allora attenzione cosa vuol dire malvagio non è il metro del mondo è il metro di Dio se non è puro è malvagio qualunque cosa che viene detto con peccato se io dico la verità ma lo dico con con durezza è una parola malvagia perché il contenitore fa parte della parola giusto? che senso avrebbe per un genitore di dire ti amo ma convince la persona che lo ami? no assolutamente no quindi una parola malvagia può essere malvagia per il contenuto può essere detto per ferire per battere giù per disprezzare può essere detto una cosa vera con cattiveria con durezza senza amore nessuna parola malvagia esca dalle vostre bocche nessuna nessuna o che possiamo vedere il peccato quando parliamo con parole malvagie e dobbiamo rinunciare a quel peccato è brutto e viene proprio dal cuore parole brutte brusche cattive e ci macchiano davanti a Dio dobbiamo parlare con novità di vita dobbiamo solo dire parole buone utili all'edificazione ma sempre secondo bisogno dovremo solo dire quello che edifica allora edifica può essere incoraggiare le verità di Dio può essere aiutare a capire la verità può comprendere far vedere il peccato se io ho del peccato e non lo vedo e tu mi parli del mio peccato in modo che posso vederlo per confessarlo tu mi stai edificando cioè vedere e confessare il peccato mi edifica mi fa più forte in Cristo quindi parole per edificazione parole buone non vuol dire che non devi mai menzionare il peccato ma con quale cuore Galeti 6 1 e 2 con quale cuore con quale scopo e notate che dice una parola buona che edifica secondo il bisogno non è sempre il momento se una persona è mega stanca in una coppia la notte per prima dare letto almeno per tanti non è il momento di far notare tante cose la persona non riesce a ragionare quindi edifica ma non in quel momento non è secondo il bisogno bisogno è di dormire se una persona è afflitta sta vedendo una cosa grande non è che menzioni ogni altra cosa voglio saggezza cercare il momento giusto perché il mio scopo non è di sfogarmi e dire su e tu hai fatto questo e quello e quello il mio problema lì è il mio peccato altro che aiutarlo io mi sto sfogando e io sono nel sto nel peccato no no togliamo quelle parole parlare malvagio parliamo con parole buone vere che edificano secondo il bisogno poi versetto 30 porta insieme e non contristate lo spirito santo di Dio col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione lo spirito santo di Dio ci parla ci parla tramite la nostra lettura della Bibbia tramite un insegnamento tramite la nostra coscienza tramite circostanze e a volte e spesso tramite un'altra persona che ci parla tipo di un peccato quando non ascoltiamo lo spirito quando non vogliamo sentire e rifiutiamo di ascoltare di cuore lo contristiamo lo rendiamo triste e Dio ci dice di non fare questo lo spirito santo ci è stato dato per farci crescere non rifiutiamo la sua voce che terribile che stoltezza quando i nostri rapporti parlando dei nostri rapporti sono pesi anziché benedizioni allora se hai una persona non credente nella tua vita che sta proprio camminando nelle tenebre può essere un peso ma quando si parla di rapporti con altri credenti nella vita se sono un peso per te se siamo onesti c'è un grande problema non stiamo ascoltando lo spirito santo stiamo spegnendo lo spirito non facciamo quello poi 31-32 un elenco e non andiamo a fondo ma voglio sentire per capire cosa vuol dire e pensate anche ai nostri rapporti si è rimossa da voi ogni amarezza ira crucio clamore e maldicenza con ogni malizia siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo non c'è tempo oggi di andare a fondo su questi ma lo scopo è di capire questi sono esempi di peccati da togliere rimossa da noi tutte di queste cose completamente in Cristo tolti da noi parlavo per esempio di amarezza tu hai amarezza verso qualcuno ti ha fatto il male e porti avanti amarezza egli mi ha fatto questo egli mi ha fatto questo non è giusto forse forse ti ha fatto più cose e tu porti amarezza via da te è un peccato avere amarezza lascia il Signore quello che ti ha fatto lui o lei tu hai qualunque tipo di era o crucio o clamore riguarda cose dentro e cose fuori perché il peccato è di togliere completamente dobbiamo togliere ogni maldicenza e ogni malizia maldicenza è quello che diciamo alla persona o della persona che è male allora abbiamo detto posso parlare con qualcuno del suo peccato per aiutarlo a avere più di Cristo ma questo è maldicenza e spesso usiamo maldicenza per cercare di inalzare noi stessi e non stiamo facendo nulla che ammacchiandoci di più davanti a Dio malizia è un cuore che anziché volere il bene vuole il male via da voi si è rimosso tutto quello ci tengono lontani da Dio danneggiano i nostri rapporti con Dio e danneggiano i nostri rapporti tolgono la pace da noi grazie a Dio siamo stati liberati dal peccato non dobbiamo continuare in questi peccati dobbiamo non solo togliere il male ma dobbiamo rivestirci con il vero bene quindi per esempio dobbiamo essere pieni di benignità benigni una bontà che proprio vuole fare del bene agli altri anche chi ci ha fatto il male questo è rivestirci del bene dobbiamo traboccare di bontà dobbiamo essere pieni di misericordia cosa vuol dire che vuol dire che vediamo chi ha sofferenze forse dovuto al peccato che mi fa del male ma stanno male e il nostro cuore corre a quella persona e vogliamo fare del bene vogliamo aiutare dice di essere misericordiosi come Dio è misericordioso con noi se qualcuno nella tua vita ti dà fastidio tu sei nel peccato avere fastidio è essere controllato dal tuo peccato non devi avere i piaceri quando altri peccano ma fastidio è la carne è la carne non è pieno di benignità e misericordia e poi abbiamo detto letto perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo dobbiamo essere pronti a perdonare quante volte fino a sette volte al giorno chiese Pietro no fino a settanta volte sette senza contare perdonare di cuore come anche Dio vi ha perdonato in Cristo se Dio non avesse perdonato di cuore non avremmo speranza ma Dio ci ha perdonati di cuore e dobbiamo noi perdonare così allora ho iniziato questo sermone chiedendo a ciascuno come stai veramente qual è il tuo cuore e poi ho chiesto come vanno i tuoi rapporti sia nel come stai sia nel come vanno i tuoi rapporti se tu giorno dopo giorno settimana dopo settimana stai bene stai guardando a Cristo questo è un buon segno se invece spesso hai un cuore turbato spesso ti manca la pace c'è qualcosa che non va nei tuoi rapporti sei è così raro che è difficile ricordare quando hai l'ultima volta che hai avuto uno scontro questo è un buon segno dovrebbe essere così se invece i scontri fanno parte della vita anche ogni mese c'è qualcosa che non va c'è del peccato non è normale quello non è camminare nella luce e spesso siamo talmente abituati alla puzza del nostro peccato che non ci notiamo o che possiamo notare perché in Gesù Cristo c'è perdono non siamo più schiavi del peccato siamo stati crocefissi con Cristo morti con Cristo Cristo sapolti con Cristo risuscitate novità di vita il peccato non ha più poteri su di noi non presentiamoci al peccato siamo stati vivificati in Cristo rivestiamoci del nuovo uomo essendo spogliati di tutto quello che riguarda il vecchio uomo e quando ci troviamo con qualcosa di vecchio con un peccato lo confessiamo subito a cuore a fondo non ci scusiamo non mentiamo eh ma non riesco ma è capitato no questo è il nostro cuore confessiamo il peccato di cuore perché c'è perdono in Gesù Cristo in Gesù Cristo siamo nuove creature tutte le cose sono nuove camminiamo come quello che siamo figli di luce camminiamo nella luce non più nelle tenebre grazie a Dio in Gesù Cristo possiamo preghiamo padre avevamo bisogno di risentire questo troppo spesso accettiamo il peccato nelle nostre vite come se fosse normale e come se andasse bene più o meno non va bene e non deve essere normale oh padre mostraci la gravità del peccato mostraci anche che non siamo più schiavi del peccato siamo stati liberati dal peccato e possiamo perciò rifiutare il peccato grazie a Dio per questo e ti prego che possiamo camminare in quella novità di vita che ci hai comprato con il sacrificio di Gesù Cristo vogliamo camminare come tu ti hai mostrato oggi grazie che è possibile Cristo Gesù nel nome di Cristo Gesù ti preghiamo Amen grazie 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 a tutti.